Un po' di raccoglione è lentamente, ma sicuramente inizia ancora. Kaiosho Europe presenta il successo di Kaiosho in Hungaria. Nitro Buggy Track in Pavia, Italia, presenta un evento di raccoglione in settembre, un altro evento in ottobre e un altro in novembre. Baier con il suo nuovo X-Ray XB8, praticando molti e molti litri a Tichudi Arena Indoor Facility. Nuovo da Rudog MBX8 Mugen Carbon Front Winglets per il Buggy. Un altro buon design da Mao Graphics. La Kaiosho Vintage Ultima ora ha alcune parti opzioni.